Vince e convince il Castelnuovo Vomano che batte 3-1 la ruora alto Casertano in riscatta e il palzo falso di Castelfidardo. Nessuna novità di rilievo per quanto riguarda i neroverdi, mister Di Fabio schiera sostanzialmente l'undici titolare. Il rientro dal primo minuto di Capitante Renzo sulla linea difensiva e corticchia a centrocampo sono le novità al posto di Marianeschi. Squalificato modulo speculare per i campani, dal primo minuto spazio per l'ex Chieti Franchi, mentre si accomoda in panchina l'ultimo arrivato Fioretti. Sotto gli occhi del direttore di gara, Recchia di Brindisi, la prima occasione, pronti via e per gli ospiti. Nasce tutto da un errore in fase di impostazione del Castelnuovo, ma sia Lopez che Percuoco sbattono contro il muro eretto dalla difesa di casa. Alla prima occasione però il Castelnuovo sblocca la gara. Calcio di punizione dalla tre quarti calciata alla perfezione da corticchia, dalle retrovia sbuca pulsoniche di testa e indirizza la sfera nell'angolino. Gioia per il classe 2001 al primo gol di stagione. Il Castelnuovo vorrebbe mettere subito la sfida in discesa con De Gidio, ma da due passi l'esterno d'attacco si vede respingere il tiro con un intervento miracoloso di Guzmanovic. Ma al ventunesimo il portiere ex Matese deve arrendersi per la seconda volta. Sfonda sulla sinistra Sanseverino, bravo di prima intenzione a mettere in mezzo e trovare Ripa che di piatto infila le spalle del portiere. Quarto centro stagionale per l'attaccante ex Juve Stabia, l'aurora alto casertano è poca cosa nella prima frazione ed allora prova ad approfittare nel Castelnuovo scucchiaiata di corticchia per Ripa, il quale serve De Gidio che per questione di centimetri non arriva all'appuntamento con il gol. Si dispera Ripa, troppo altruista nel servire il suo compagno, terza rete che comunque arriva al quarto d'ora della ripresa ed è proprio De Gidio a farsi perdonare. Calcio d'angolo del numero 7 nero verde che mette il mirino sul palo più lontano e spera che si inzacca alle spalle del portiere. Altro gol fantastico, il terzo stagione per De Gidio. La partita scivola via senza troppi sussolti fino alla mezz'ora quando l'aurora alto casertano accolcia le distanze direttamente da calcio di punizione. Mancino dalla destra decide di andare direttamente in porta ed è la scelta vincente perché la sfera attraverso una selva di gambe con Greisi in ritardo e la palla che sorpassa la linea bianca. Il Castelnuovo si abbassa troppo e permette agli ospiti di crederci fino alla fine come al quarantesimo quando dall'ennesimo tiro dalla biancherina Vallefuoco svetta più in alto di tutti ma il colpo di testa è di poco alto. Sulla trasversale, scampato il pericolo, il Castelnuovo riesce ad amministrare bene il doppio vantaggio al triplice fischio finale. Gioia in casa, Nero Verde che centra la terza vittoria di stagione e sale al terzo posto in classifica a quota 10 punti.